Dopo mesi di attesa e soprattutto grande preoccupazione per il rischio di crolli, da domani sarà operativo il cantiere per la sistemazione del tetto del santuario di Maria Santissima di Capodorlando. Lavori che erano stati annunciati già alla vigilia della festa padronale dello scorso 22 ottobre, ma poi erano stati differiti dalla Curia, che è proprietaria dell'immobile. La diocesi di Patti ha affidato l'incarico alla ditta Antonino Pintaudi di Sant'Angelo di Brolo. Verranno sostituite le tegole ed eliminati i problemi legati all'infiltrazione d'acqua. Per tutta la durata di intervento l'intera area del Monte della Madonna sarà chiusa ai visitatori. In quei giorni verrà installato il montacarichi, che servirà anche per il trasporto dei materiali nella zona del Miramare alla sommità del colle. I lavori eseguiti con nulla ossa della sovrintendenza avranno un costo di 100.000 euro, tutti a carico della diocesi. L'intervento sarà fondamentale per garantire l'edificio di culto che rappresenta il simbolo di Capodorlando, visto che all'interno della chiesetta si trova l'effigia di Maria Santissima, patrona della città, ma non potrà certamente essere definitivo, visto che il progetto di messa in sicurezza del complesso del Monte della Madonna necessita di quasi un milione e mezzo. Lo studio era stato commissionato dal Comune all'Università di Firenze, che l'ha redatto e consegnato nell'ottobre del 2014, mentre in precedenza tre richieste di finanziamento presentate dalla Curia Vescovila alla regione siciliana, con tanto di progetto redatto da tre professionisti, erano andate a vuoto. Proprio per coprire una parte della somma necessaria, si è anche pensato di verificare l'esistenza di privati interessati all'acquisto dell'ex cottolengo edificio che si trova alla base della scalinata. Grazie.